Il tema che abbiamo dato quest'anno è crescere nella città. Questo tema stesso lo abbiamo discusso anche noi in questi mesi che hanno preceduto il festival, in particolare è stato anche per noi un modo di crescere, soprattutto attraverso l'esperienza di questi dieci anni, perché portare avanti un festival negli anni non è facile perché è sempre importante mantenerlo vivo e cercare anche un po' di interpretare e toccare delle tematiche che possano essere condivise, riguardare anche il tempo, vorrei dire lo spirito del tempo che viviamo. Ed è proprio questa l'idea di fondo che ci accompagna quest'anno in questo tema. La decima edizione prevede, oltre ai tradizionali cortometraggi in concorso, appunto un inizio dedicato al cinema africano con dei cortometraggi molto significativi, che raccontano delle storie anche simboliche e importanti che vanno anche al di là di certi, come dire, solo di alcuni temi che magari sono maggiormente presenti nei mass media. Ciò anche per testimoniare che esiste una cultura cinematografica viva e vivace che viene da altri paesi e che va assolutamente, secondo me, conosciuta e che un festival ha anche il dovere di dimostrare e di portare al pubblico. Poi avremo anche una parte dedicata al cinema corto dell'Europa dell'Est, con una selezione di cortometraggi russi e anche dei piccoli momenti dedicati alla storia del cortometraggio in cui affronteremo il cortometraggio di animazione dell'Europa dell'Est dagli anni Sessanta fino ad oggi. Ma non sono solo questi temi, i temi che ci stanno a cuore appunto relativi a crescere nella città riguardano anche dei spazi che noi dedicheremo ai bambini, con dei laboratori paralleli in cui i bambini possono avere dei momenti dedicati alla loro espressività, sempre inerenti ai temi del cinema e dell'espressione visuale, audio-video, perché questo è un po' il cuore del tema, come imparare e riuscire a crescere nella città ma anche come la città può crescere trasformandosi. Tra l'altro questo è un tema che in modo trasversale attraversa tantissimi cortometraggi in concorso. proprio questo sentimento che accomuna l'individuo nel suo radicarsi e vivere la dimensione collettiva della città. e proprio in questa direzione il senso di questo incontro di oggi è proprio relativo a questo, a cercare di capire in che modo noi condividiamo probabilmente una visione comune rispetto al nostro appartenere, al nostro senso di appartenenza alla città e quindi come condividiamo anche quasi una visione politica nel senso alto del termine chiaramente e quindi in particolare io sono molto contento di avere qui Antonella Postorino, il consigliere dell'Ordine dei Psicologi che quest'anno ci fa da patrocinio e che vi introdurrà a un tema molto importante rispetto ad un progetto che l'Ordine dei Psicologi sta portando avanti nel territorio dell'albergheria come intervento di comunità, forse un'espensa più eneristica forse a livello anche italiano e quindi vale la pena di confrontarci con questa progettualità all'interno del quale il cinema ha anche un ruolo importante perché appunto l'ha organizzato di un cineforum condiviso con gli abitanti di questo quartiere dell'albergheria Poi abbiamo Yodid Abraha, giusto? Che si occupa di immigrazione allo sparo all'interno dei locali del CUS del Cresma e in particolare sul tema che le sta molto a cuore rispetto ai minori non accompagnati che penso sia assolutamente centrale riguardo alla possibilità di crescere all'interno della città ma di crescere anche all'interno del mondo nel senso che io, ma questo è veramente un pensiero condiviso, è condivisibile probabilmente da tutti noi l'infanzia rappresenta un momento della crescita che appartiene a tutti, appartiene al mondo quindi chiunque ha diritto di crescere nel mondo e di essere accompagnato in questo processo sicuramente non ostacolato ma favorito nella possibilità di evolversi Poi interverrà Giovanni Lomonano che è responsabile delle attività formative del Queer Festival che è il nostro partner insieme ad altri due festival prelmitani che sono il Sicilia Ambiente ad esempio il Film Festival e il Sole Luma Film Festival e poi porta questa esperienza importante proposta dal Queer già dall'anno scorso di cui lui è direttore artistico riguardo al Festival di Tatro Bastardo di cui magari c'è anche due parole quindi questi sono alcuni degli esempi presenti nel territorio che noi siamo felici di ospitare e di condividere con loro appunto in occasione del nostro festival non voglio fare altro tempo a parlare oltre e quindi passo la parola alle nostre direttrici artistiche del teatro patafisico che ci danno due indicazioni generali sullo svolgimento del festival e su cosa accadrà Sì, io intanto volevo dirvi due parole rispetto al teatro patafisico che magari non tutti conoscete noi siamo un'associazione culturale che da un po' di anni ormai ha preso, diciamo, sotto il suo cappello per l'organizzazione di questo festival di costume tragiche e sorsicorti Siamo un'associazione culturale e siamo un teatro quindi siamo un collettivo di persone che gestiscono anche uno spazio teatrale e culturale che si trova dentro quello che Gabriele chiamava Lecusso ossia le comunità urbane e solidarie dentro l'ex Manicomia della loggia Questo lo dico perché quando abbiamo iniziato a parlare con Gabriele di questo tema del crescere della città noi ci siamo subito gasate rispetto alla possibilità di affrontare questo tema ovviamente attraverso il cinema ma anche attraverso delle chiacchierate e degli approfondimenti perché è un tema che ci sta molto a cuore sia dal punto di vista dell'attenzione all'infanzia ovviamente per tutti i motivi normali che ci possono vedere in mente e che per quanto ci riguarda hanno anche molto a che fare con l'educazione all'immaginazione e alla creatività nel nostro cartellone teatrale c'è molto spazio per i bambini ci sono tanti spettacoli di teatro per bambini e laboratori perché pensiamo appunto che questa sia una delle attività principali su cui il nostro teatro e la nostra associazione debba lavorare e dall'altro lato questo tema ci piace molto perché crescere la città e crescere nella città significa anche interrogarsi su come questa nostra città debba crescere sia rispetto alla multiculturalità sia rispetto alla gestione degli spazi l'essere dentro le comunità urbane solidari ci pone tante domande quotidianamente noi siamo appunto in questo spazio e sopra di noi c'è uno spazio per cui probabilmente io ci parlerà uno dei nostri inviti è quello di dialogare con questo spazio quindi dialogare con le persone che vi abitano cosa che non sempre facilissime ma che stiamo cercando di fare attraverso attività laboratorie attraverso anche delle scelte rispetto al cartellone teatrale che affrontino questi temi e altro tema che c'entra con questo largo tema che cresce nella città è quello della riqualificazione degli spazi il padiglione 33 dentro l'ex manicomio era uno spazio che è stato abbandonato per tanti anni come tanti altri padiglioni lì dentro noi speriamo che un po' come questi cantieri culturali pensiamo che anche quello sia uno spazio assolutamente una risorsa per la nostra città che dovrebbe essere recuperato assumiamo noi un ex manicomio che diventi un luogo culturale con tante associazioni tante tante attività questo è un appello diciamo è un appello insomma venite e chiedete i padiglioni lavoriamoci lavoriamoci insieme e questo insomma quello di dire mi sta fortemente a cuore rispettato perché anche il teatro fisico si mette dentro questo tema e poi rispetto ovviamente leggevo da qualche mese gli ultimi rapporti sulla situazione sulla povertà educativa della nostra città della nostra regione insomma i dati ci dicono che come sempre la Sicilia sta proprio ai primi posti come tasse di povertà educativa facendo soprattutto riferimento ovviamente alle gravissime carenze dell'offerta dei servizi alla stessa qualità dell'offerta educativa proposta e dando magari poco spazio questo è che però secondo noi è altrettanto importante ossia appunto l'educazione e la creatività la possibilità che questi bambini tutti questi bambini al di là della situazione ovviamente economica abbiano di frequentare i teatri di andare al cinema, andare nei musei, frequentare delle biblioteche e quindi insomma questo è assolutamente per noi un tema tantissimo e quanto riguarda il programma è un'altra cosa che si può fare allora noi cominceremo io cominciamo oggi, stiamo cominciando proprio adesso però soltanto oggi saremo qui insieme al Quir in qualche modo ci sta dando diciamo prevedo la manifestazione un po' così all'ultimo momento però insomma è un'altra bella da domani invece ci trasferiamo al piccolo dettaglio fisico avremo un po' bisogno dedicato ai bambini per l'appunto con un corti per bambini e avremo anche, ospiteremo anche il genuino grandestino che in quanto grandestino posso non dovremmo dirlo però è un mercato è un mercato biologico su base fiduciaria insomma una cosa un po' complicata che poi spiegheranno i famigli responsabili se vorrete dire vi consiglio di farlo insomma prima di fare un po' di spesa da noi poi proseguiremo la sera con aiutami con la storia del cortometraggio e vero in sala dove poi come di fare una pausa e si... beh... anche qua io il programma poi si cominceranno i corti in concorso il martedì, mercoledì e giovedì e venerdì chiudiamo con il concetto IFC la premiazione del vincitore che mi sono sfruttato su qui ma non importa e inoltre proprio riferendomi a quello che diceva Rossell i spazi per bimbi abbiamo cercato insomma di allestire meglio che abbiamo potuto uno spawnare a bimbi in giardino nel nostro giardino quindi ci darà spazio per poter accogliere accogliere i bimbi di chi vorrà venire a vedere i cortometraggi ma anche no ma anche di chi vorrà semplicemente passare da noi e essere un pomeriggio da noi l'area è organizzata da Casa dei Bimbi che organizzerà anche due laboratori mercoledì e venerdì quindi per chi vuole sempre portare i propri bimbi cosa che venire anche non per forza per le cortometraggi Passo la parola a quello Sì Dottoressa Antonella Apostolino consigliere dell'Ordine di Psicologia della Regione Siciliana Grazie grazie ovviamente per l'invito per l'Ordine di Psicologia è veramente un onore partecipare è un ordine che vuole essere presente sul territorio e ha deciso proprio di investire e promuovere la professione in attività concreta quindi non semplicemente con convegni ma proprio cercando di lasciare anche un segno nel territorio ed è così che ci siamo conosciuti insomma Lui, Gabriele ha contagiato quello che è la passione è il linguaggio cinematografico perché noi siamo presenti come progetto il progetto così intervento di sviluppo di comunità presso la chiesa San Nicolo di Paglia della Paglia è un progetto direi un po' ambizioso perché abbiamo iniziato proprio con semplicità però stiamo capendo che ha una ripercussione veramente molto grande sul territorio siamo presenti con 15 psicologi che mettono in disposizione la loro professionalità per offrire a bambini e a famiglie la possibilità quindi di impiegare il loro tempo in maniera costruttiva proprio per crescere la città devo dire infatti che c'è sempre un filo invisibile conduttore in tutto quello che è avete anche fin qui detto anche io, tutti i suoi ministri venivano accompagnati noi come ordine abbiamo investito anche tantissimo questo perché ci abbiamo creduto anche in passato con la città di Silacusa anche a Palermo con dei corsi e ritornando quindi all'albergheria quello che offriamo ai bambini sono dei laboratori laboratori di teatro, di arte, di musica di educazione socio-affettiva quindi un po' trasversale rispetto a tutti come in quell'immagine e per la famiglia anche il cineforum abbiamo iniziato con la prima proiezione del film che raccogliendo un po' quello che è il gusto insomma del territorio perché vedete la difficoltà di questo tipo di progetto è che non può essere preconfezionato ma con un abito proprio fatto su misura del territorio e quindi noi abbiamo incontrato i genitori di questi bambini che hanno cercato di agganciarli e loro stessi quindi hanno detto un po' quali sono i loro gusti poi li ho colti così per poi magari condurli verso i messaggi che poi dovremmo inviare durante questo anno da qui è partita Milena veramente bella di realizzare un laboratorio multilegale cioè questo è un livello anche la videocamera sapevamo che loro siano anche i protagonisti e quindi non soltanto vedessi proiettati su quello schermo perché la cosa più difficile è proprio cercare di poi il loro motivazione cioè la possibilità di versi loro stessi proiettati in un prodotto finito quindi è questo quello che voglio andare io ho cercato di implementare anche il progetto che dovete immaginarlo come una cornice entro cui stiamo veramente mettendo in maniera organizzata poi le attività un'attività per le vostre sembrali famiglie è il centro di ascolto il centro di ascolto sono presenti due colleghe che hanno un supporto psicologico ma non solo è un orientamento semplice del territorio perché appunto la carenza appunto dei risultati quello che sono i dati parlare una città garante devo dire che ci mette il muoto io ho incontrato veramente in questi ultimi periodi uomini, donne, volontari veramente stanno facendo tantissimo e chi ci crede veramente ci mette il cuore quindi grazie veramente per questa opportunità di scambio credo che pian piano a piccoli bassi riusciremo a fare con i piccoli e lasciare magari si diceva il mondo un po' diverso rispetto a quello che è non abbiamo queste grandissime ambizioni però sicuramente il nostro piccolo ha già un po' al cambiamento grazie grazie Tonella si mette proprio anche questa l'idea quella di provare a operare da dove possibile delle piccole trasformazioni l'occasione di un festival di incontarci perché di parlare secondo me sta in questa direzione pure io ho il papà buon pomeriggio a tutti ringrazio anche io per questa possibilità di confronto e di incontro e quindi appunto come spazio di poter creare pensare a una progettualità ancora più concreta come crescere all'interno della città del territorio quindi come anche sentirlo parte di noi stessi come già hanno detto appunto mi occupo di migrazione e in maniera specifica in questo periodo lavoro all'interno di uno SPAR che si trova appunto in questo spazio splendido che è stato ristrutturato quindi che vi sia dato una nuova anima lo SPAR non è altro che appunto il servizio per i richiedenti e rifugiati che è finanziato dal ministro dell'interno nei fondi nazionali un progetto che rispetto a qualsiasi altro centro di accoglienza è il comune che partecipa quindi sono i comuni che partecipano che sono a capofila e poi vengono appunto gestiti nel lato pratico da associazioni Palermo ospita di circa 200 rifugiati è una forma di seconda accoglienza quindi inizialmente in origine era pensato normalmente in cui i rifugiati arrivano quindi fanno una prima accoglienza nei primi centri dove l'obiettivo principale oltre al disbrigo dell'aspetto burocratico quindi la richiesta della protezione internazionale per ottenere il permesso di soggiorno è quella anche dell'avvio delle prime forme attività che favoriscono l'integrazione quindi quello che è il corso di prima fabbricazione o corsi di italiano di secondo livello valutando le competenze dei migranti e di conseguenza poi c'era il passaggio a questa seconda accoglienza che ha una ospitalità permanenza veramente molto minima perché sono sei mesi dove poi si possono prologare massimo per altri sei mesi quindi per poter veramente focalizzare le proprie energie le proprie competenze rispetto all'alleggimento di un obiettivo che potrebbe essere o la conclusione di una formazione professionale o la ricerca dell'occupazione perché poi sono al di fuori di qualsiasi sistema di protezione però ovviamente in questi ultimi due anni dove Palermo è anche un porto di sbarco quindi l'abbiamo vissuto in prima persona con l'afflusso appunto dei numeri quindi dell'immigrazione e della mancanza di posti in qualche modo lo Sprat soprattutto per quanto riguarda Palermo o la Sicilia hanno una doppia funzione nel senso che all'interno diciamo della permanenza dei migranti funzionano come centro di prima accoglienza e poi di seconda accoglienza ovviamente questo crea confusione anche nel essere un modello e nell'avviare veramente poi orientare le persone al raggiungimento degli obiettivi stabiliti diciamo dalla legge la sensazione appunto che spesso di taglia direi siamo molto bravi a livello concettuale teorico ma abbiamo ancora molte difficoltà a fare un'analisi reale concreta del contesto e di conseguenza dei migranti ogni anno il flusso cambia ogni anno le persone che arrivano sono diverse quindi è chiaro che non possiamo continuare a lavorare o a pensare all'accoglienza rispetto a una conoscenza idealistica direi di due anni fa per esempio perché comunque ogni anno cambiano le esigenze e cambia veramente il contesto di lavoro la funzione principale diciamo è quella dell'orientamento quindi al di là diciamo di supportare orientare i migranti a vivere veramente e crescere nella città dove hanno scelto aumentaremente di stare questo è complicato soprattutto allora al di là delle difficoltà che sono abbastanza per esempio per tutti viviamo in un momento storico economico molto particolare e sicuramente non abbiamo alla base di supporto delle politiche sociali che siano nel rispetto di tutti i cittadini come bambini adolescenti adulti anziani dall'altra parte sicuramente la lentezza burocratica quindi il fatto di riuscire a ottenere un documento che significa fondamentalmente essere riconosciuti delle persone non aiuta assolutamente a vivere la città in quanto non mi riconosco e quindi la difficoltà di solito degli operatori del settore è questo nel vivere e nel poter esprimere quelle che sono le competenze che sono portatori la difficoltà principale è questa nel momento in cui il sistema non mi riconosce come faccio io a identificarmi a vivere la città come parte di me e di conseguenza vivere la 360 gradi e in questa situazione così precaria particolare ovviamente lo vivono i minori strani non accompagnati già so appunto che l'ordine psicologi in quest'ultimo anno si sta veramente impegnando a essere partecipo protagonista nella tutela dei minori in quanto se da una parte a livello legislativo sempre che i minori siano tutelati ma in realtà anche i criteri diciamo le leggi le nuove circolari a livello regionale che danno indicazione sull'accoglienza dei minori non è assolutamente tutelante e stiamo secondo me andando oserei dire verso un una stiamo intraprendendo un percorso una strada pericolosa innanzitutto e spero che questa cosa riusciamo a farla per esempio a Siracusa c'è una gradatoria un rispetto diciamo ai tutori dei minori siano accompagnati che devono essere assolutamente esterni solamente perché nel momento in cui il tutore è all'interno del sistema quindi è far parte del comune far parte dell'assessorato della regione io ho paura che ci sia una lotta di interessi che non si pensa assolutamente all'interesse del minore ma agli interessi economici e politici quindi se anche a Palermo riuscissimo fare solo questo obiettivo nel senso riuscire ad avere delle persone sicuramente formate che possano prendersi la tutela dei minori sicuramente si farebbe l'interesse dei minori mentre anche i minori per quanto rientrano diciamo nell'infanzia fondamentalmente sono semplicemente i numeri nel momento in cui continuiamo ad approcciarsi alle persone come numeri sicuramente non possiamo crescere e valorizzare la nostra città ma stiamo creando delle linee vaganti che prima o poi esploderanno grazie grazie a Giovanni l'attività l'attività formative del queer mi sembra che è un'altra tematica abbastanza importante Salve a tutti e a tutte benvenuti grazie a voi i suoi supporti per l'invito niente io ogni tanto vi voglio scusare per il fatto che in realtà non ho avuto molto tempo per prepararmi bene per questo incontro e quindi preparare il mio intervento così come invece mi avevi suggerito per cui diciamo io ho partito sono partito scusatemi da una riflessione proprio incentrata sul titolo di questa tavola rotonda crescere nella città ho bisogno di fare questo lungo preambolo per incardinare in qualche modo diciamo quello che noi come Sicilia qui facciamo per la città in che senso noi contribuiamo allo sviluppo alla crescita della città di Palermo infatti io mi sono chiesto in che senso si può parlare di crescita di una città e poi anche città questo questo mi sembra un termine molto molto generico dal momento che Palermo è diversa da Milano Milano è diversa da Berlino Berlina è diversa da Tokyo e così via poi se noi ci fermiamo nella fattispecie sulla città di Palermo perché è di questo che dovremmo parlare Palermo di fatto è un microcosmo come dire di biodiversità riflettiamo un attimo pensiamo ad esempio alle realtà nostre cittadine posti totalmente distanti pur essendo molto vicini come ad esempio il Politeama nel quartiere del Politeama se ci spostiamo 100 200 300 metri più sotto arriviamo al quartiere di Borgo Nuovo e troviamo un'altra città completamente e questo è un paragone che faccio relativamente al centro di Palermo ma lo stesso lo potrei dire per le periferie come dire lo Zen è diverso dalla Molara come Brancaccio per esempio è diverso da Mondello allora se parliamo di città e vogliamo trovare un denominatore comune un fattore che unisce tutta questa città questa città che vive di tutte queste diverse anime per così dire quale potrebbe essere ecco in questa mia recuperazione io mi sono diciamo avviluppato ancora di più e vi racconto dove mi sono invischiato perché chiaramente cercando di trovare un criterio per così dire generale che riuscisse in una formula in una parola spiegare che cos'è Palermo e qual è la città nella quale noi lavoriamo che cerchiamo insieme di far crescere per così dire passavo da una generalizzazione a un dettaglio a una sfumatura che mi riportava diciamo di nuovo alla generalizzazione in una specie di circolo chiuso e soffocante pensavo ad esempio appunto sempre a questi quartieri menzionati prima laddove ad esempio tu vedi al Politeama via della libertà i ragazzi camminare guidare le moto sempre col casco se tu scendi lì sotto al due passi al borgo vecchio questa è praticamente una cosa una norma che non esiste la disconoscono completamente dispacciano il fumo davanti agli occhi però è anche vero poi facciamo una riflessione contraria a questa che se da un lato lì nel quartiere del Politeama e di via della libertà troviamo le famiglie borghesi adesso le famiglie borghesi o la gente che si ingorghesisce la troviamo anche al borgo vecchio e anche al Politeama spacciano diciamo sotto gli occhi sotto gli occhi di tutti per cui cercavo di capire veramente quale potesse essere il denominatore comune di questa città Palermo avevo pensato al dato culturale ma di fatto poi appunto ci sono queste subculture all'interno della città stessa lì dove pare che ci sia una legalità diffusa e laddove invece c'è l'esatto opposto allora con uscire da questo da questo inghippo io diciamo per andare a fondo di questo mio discorso vi vorrei raccontare due storielle non so se voi riconoscete la storia dei ciechi e dell'elefante è una storia di origine hinduista saggeziale orientale e qui vi dico dove voglio andare a imparare perché c'è un parallelismo fra diciamo questa ramificazione della città di Palermo e di tutte le città in subculture con quello che cerchiamo di fare noi come Sicilia qui insomma la storia dei ciechi e dell'elefante racconta questo dei ciechi si avvicinano ad un elefante il primo tocca la testa e dice agli altri ho capito che cos'è un elefante un elefante è una sfera l'altro si avvicina alla zampa dell'elefante la tocca e dice no no guarda che ti sbagli ho capito io che cos'è un elefante un elefante è una colonna l'altro dice no no il terzo ti sbagli anche tu alla proposite dell'elefante guardate che un elefante è un tipo di serpente quindi tutte e tre diciamo si ritrovano a non capire o forse a capire in parte che cos'è un elefante perché quello che diciamo racconta questa storia è che in realtà che cos'è un elefante nasce dalla sintesi di tutti questi punti di vista che si completano un po' come i punti di vista che offriamo tutti noi movimenti associazioni culturali che insistiamo e lavoriamo nella città e cerchiamo insieme di dare il nostro il nostro apporto ma c'è un'altra storia ancora secondo me molto più interessante che opera un ribattamento ancora ulteriore di prospettiva che è molto importante per noi occidentali che coltiviamo a forza diciamo sempre e solo pensiero di tipo speculativo sulle cose che è la storiella del dardo quest'altra storia dice questo un uomo viene conficcato un dardo in una coscia e allora lui nonostante diciamo venga ferito riesce comunque a vivere a muoversi però il suo brucio diventa questo togliersi il dardo come lo deve tirare via come deve tirare via questa freccia prima di tirarla via però incomincia a farsi una serie di domande che prima vuole capire qual è la fattura del dardo come è fatto il dardo poi vuole capire come estrarre il dardo e quindi fa tutta una serie di ipotesi di quale potrebbe essere il modo migliore per tirarlo via in maniera tale che non si faccia più male o che non abbia conseguenze peggiori dopo insomma così facendo di fatto lui non riesce a vivere il suo presente e muore fondato conficcato nella coscia senza poter fare nulla ecco secondo me molte volte noi viviamo avviluppati in questi pensieri che diventano per noi come delle delle gabbie che ci impediscono persino a volte di di vivere io dico che a questo punto quello che cosa c'è per sicilia queer con tutto questo grande grande preangolo ecco il sicilia queer ha spostato il proprio raggio di interesse eh così come l'abbiamo visto poco fa eh sui fattori che riguardano le subculture diciamo eh della città l'ha spostato sulle differenze umane cercando proprio di reinterpretare l'istanza queer dove per queer noi intendiamo il queer appunto un aggettivo inglese che designa tutto ciò che è strano trasversale divergente poco fa che parlavamo con Antonella nella cultura anglofona indicava i gay in senso dispregiativo era come per dire a un omosessuale finocchio o frocio eh gli anglosassoni l'hanno diciamo risemantizzato questo termine e quindi l'hanno risignificato in un'accezione positiva il sicilia queer eh ha ripreso questo termine più da un punto punto di vista appunto prospettico eh che che continuutistico eh attraverso attraverso il cinema cerca di eh diffondere quella che è la cultura delle delle differenze eh ma facendo un lavoro per così dire che è anche un po' diverso rispetto a quello da cui partono i movimenti e le associazioni GLBT eh ovvero già con lo stesso GLBT è come dire esplicativo eh della direzione su cui vanno i movimenti eh le associazioni omosessuali oposessuali lesbiche transgender eccetera ovvero si lavora sui processi identitari invece noi pur non rinnegando questo tipo di percorso abbiamo cercato di inglobare questo eh discorso e questo queste battaglie precedenti fatti eh dai movimenti suscitati per eh fare un discorso che parte invece dalla persona quindi dalla persona in primis in primis e poi tutte le differenze di cui essa eh è portatrice ecco a me pare che in questo si possa eh sintetizzare il contributo che il Sicilia queer dà alla crescita della città cioè aprire questo spazio di riflessione utilizzando il cinema come mezzo di diffusione e di riflessione culturale eh è quello che facciamo nel concreto che cos'è? Facciamo un festival che parte appunto giorno 29 maggio eh qui in questa sala eh con un programma che potete consultare sul nostro sito www. siciliaqueer in fest.it avremo eh faremo dei grandi omaggi quest'anno uno bellissimo a Bertolucci proietteremo per intero il film novecento che ci sarà eh ospite Dominique Sanda eh così come faremo un altro omaggio a Scaldati con l'ultimo film eh che ha presentato Maresco a Venezia e in più abbiamo attraverso sempre il cinema e il film realizzato dei laboratori nelle scuole elementari e medie eh dei seminari che si intitola una prospettiva queer con l'università di Palermo e una Sunday School delle differenze e delle identità plurali che ha invece un respiro internazionale in collaborazione sempre con l'università di Palermo a dove è frequentata da studenti e studentesse che vengono da tutte le parti d'Italia eh e di ed Europa e in più l'ultima avventura come tu accennavi infatti è questo festival di teatro intitola festival teatro bastardo anche in questo abbiamo giocato abbiamo voluto eh acquisire un termine negativo bastardo appunto per eh eh risignificarlo in eh con un'accezione diciamo eh positiva e questo è quello che tentiamo di fare eh concretamente per il punto di vista teologico così vi leggo a quello che appremmo di prima e capiamo eh diciamo tiriamo il filo tiriamo le conclusioni di questo eh discorso secondo me ecco gli uomini come le città sono portatori di biodiversità eh forse un uomo non può essere sintetizzato da un'etichetta come una città non può essere sintetizzata da un'etichetta etero uomo bianco nero maschio e femmina diciamo questo raccontano gli uomini e le donne parzialmente noi siamo tutto questo e molto di più e ancora prima di tutto questo sicuramente siamo delle nostrone se io conosco Antonella solo dalla prospettiva del suo orientamento sessuale per esempio finirò per pensare che per raccontare eh Antonella sia sufficiente adottare solo questo punto di vista ma così facendo compie lo stesso errore che compivano i ciechi con l'elefante eh che Antonella chi sono io eh lo raccontano invece tutti i punti di vista interni ed esterni a me stesso e lo racconta secondo me persino quel dardo che è infilzato nella mia coscia che è infilzato nella coscia di ognuno di noi che nonostante secoli e secoli di speculazione filosofica non siamo riusciti ancora a toglierci allora davanti a questa che io definirei eh una complessità assurda ecco a questa evidenza che non ha nessun apparente sbocco risolutivo che cos'è che si può fare mi pare che l'unica chance che abbiamo è fare un po' come Sisifo c'è questo bellissimo saggio di Camus che eh eh si intitola appunto eh intitolato al mito di Sisifo saggio per l'assurdo che è bellissimo dove si racconta appunto questo uomo Sisifo che spinge il masso sui cima alla montagna per fare che cosa? magari per vederlo rotolare di nuovo però ci sarà comunque un istante un istante solo in cui il masso sarà di fermo e in quel momento noi potremmo essere soddisfatti di noi stessi di avercela fatta anche se per un solo istante e come diceva Camus nel suo versaggio cito lui direttamente la nostra ricompensa alla fine la troveremo in questa spinta in questo gesto quotidiano nel gesto in sé ovvero nel gesto quotidiano di spingere il masso masso che il Sicilia Queer ormai spinge da sei anni insieme a voi e a tutti quelli che credono e hanno creduto in questa assurda avventura e ora siamo qui appunto per raccontarci grazie grazie potete applaudire non si chiede grazie grazie io veramente vi ringrazio tutti quanti perché penso che in questo piccolo breve incontro che abbiamo fatto forse abbiamo buttato un sedino per ridare significato risignificare la città al Palermo e risignificare anche la nostra personalissima modalità di entrare in relazione tra città e anche fra noi quindi penso che ognuno di noi abbia tracciato un'esperienza personale e soprattutto anche un vissuto personale che ci aiuta un po' a fare il lavoro no? di ricongiunzione di tutti gli aspetti dell'elefante e non è solo appunto quello del capire o dell'atto speculativo in cui capire come levarci questo dado ma forse anche imparare a vivere con questo dado può essere anzi di uno squarcio verso qualcosa che non conosciamo e che ci fa sentire invece che capire sentire qualcosa di più almeno questo mi risuona e poi appunto ricorregandomi un po' aiutati tutti a quello che è venuto fuori penso che quello che ci accomuna e che ci consente di ripensare la città e anche la nostra possibilità di immaginarla e quindi l'immaginazione che ci guida nel ricostruire i nostri modi di pensare i nostri mondi interni e quindi il nostro modo di vedere l'esterno un po' questo è il compito che è anche il cinema e che noi tutti sposiamo credendo che attraverso il messaggio cinematografico possiamo trasmettere trasversalmente a tutti contenuti nuovi e trasformativi a tutti i nostri i nostri i nostri i nostri